Questa famosa incisione su rame mostra le figure di Adamo ed Eva in piedi in un paesaggio boscoso. Dürer utilizza un dettaglio minuzioso per esplorare i temi del peccato e della perdita dell'innocenza. Questo dipinto mostra un Adamo ed Eva dolorosamente consapevoli del loro peccato subito dopo la caduta. Le figure esprimono emozioni intense in un lussureggiante giardino dell'Eden. A fresco situato nella cappella Brancaccia Firenze raffigura un angelo che scaccia Adamo ed Eva dal paradiso. Le figure mostrano un realismo emotivo straziante. Questo dipinto mostra Adamo ed Eva nel giardino dell'Eden con il serpente. Kranach esplora il tema del peccato originale con una rappresentazione elegante e dettagliata delle figure. Parte degli affreschi della volta della cappella Sistina, affrescata dal grande Michelangelo. Questa scena mostra il momento della tentazione con un intenso scambio di sguardi tra Eva, Adamo e il serpente. In questo dipinto Gosar mostra Adamo ed Eva in un ambiente ricco e dettagliato. Le figure nude sono rappresentate con una precisione anatomica che evidenzia la loro vulnerabilità. Un'acquaforte che rappresenta Adamo ed Eva in un momento di tentazione. Rembrandt utilizza il chiaroscuro per accentuare il dramma emotivo della scena. Questo dipinto moderno mostra una colorata e astratta versione di Adamo ed Eva mentre vengono cacciati dal paradiso. Chagall incorpora elementi del folclore ebraico e cristiano. Una illustrazione dal libro quarto del paradiso perduto di Milton racconta l'episodio biblico della caduta dell'uomo, la tentazione di Adamo ed Eva operata da Satana e la cacciata dal paradiso terrestre. Il personaggio principale è Satana, considerato un angelo caduto. John Milton personifica Satana come un essere molto orgoglioso e ambizioso che sfida Dio padre. Il demone considera Dio un tiranno creatore e dichiara guerra al paradiso. Quest'opera fa parte della serie dei dipinti che Gauguin realizzò durante il suo soggiorno a Tahiti. Le figure riflettono lo stile e l'ambientazione esotica con un evidente distacco dai tradizionali elementi occidentali. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!